Fare impresa sociale oggi è molto rilevante, è importantissimo, non solo per il contributo che offre in termini di produzione del valore sociale, non solo in termini di occupazione, occupati, non solo in termini di inclusione e di svantaggio. Il vero valore oggi di fare impresa sociale è quello di generare all'interno del sistema economico, pubblico, ma se volete anche di tipo relazionale, un'innovazione necessaria. È fondamentale infatti cambiare un po' la prospettiva. Gran parte delle nostre sfide, dei nostri bisogni risiedono in un apporto non solo di beni pubblici, non solo di beni privati, ma anche e soprattutto di beni comuni e beni relazionali. Per questo motivo è indispensabile, non appena necessario e utile, popolare l'economia di imprese che hanno una finalità di interesse generale, ma svolgono integralmente e autenticamente un'azione economica.